Percorso Ex Corso, è questo il nome che ha una duplice valenza scelto per la manifestazione sportiva promossa nel pomeriggio di sabato nell'antica Bia Maiore di Nuoro dal Centro Commerciale Naturale del Corso Garibaldi e dalle società sportive Trinuoro Amatori col supporto della ciclo motosport De Murtas. L'evento è stato presentato stamattina nel corso di una conferenza stampa ospitata in municipio. All'incontro sono intervenuti Sebastiano Cocco, assessore allo sport, Salvatore Pireda, presidente del Centro Commerciale del Corso, Fabio Lui, presidente della Trinuoro e Luigi Stefanopoli, dirigente della Amatori. Una manifestazione che vedrà svolgersi due diverse gare, una di duathlon riservata ai bambini con una duplice prova di corsa per 300 metri alternata a una in bicicletta. L'altra riservata ai corridori professionisti o semiprofessionisti con una gara di eliminazione definita all'americana articolata in una dozzina di batterie. All'assessore Cocco è arrivato un plauso agli organizzatori per la scelta del corso Garibaldi, una manifestazione che consentirà ai partecipanti di rivivere un luogo di nuoro che ha grande rilevanza nel giorno del giudizio di Salvatore Sata, di cui si celebra il quarantennale della morte. L'idea è quella di reinventare la percezione legata al corso Garibaldi e far capire che si possono fare determinate cose e non utilizzare lo spazio del corso Garibaldi non soltanto come spazio commerciale. Ovviamente la manifestazione sportiva che rivolta grandi atleti, giovani e soprattutto i bambini, nel suo intento è quello di richiamare comunque il pubblico delle famiglie e di portare comunque un'attrazione all'interno del corso Garibaldi.